A voler essere ottimisti dobbiamo pritenere che i prossimi mesi saranno difficili per tutti, lo shock economico provocato dalla pandemia sarà ancora più avvertito da paesi come il nostro che rispetto agli altri paesi europei era già in forte ritardo, sia rispetto all'ordine dei suoi conti, sia rispetto alla modernizzazione strutturale del suo apparato pubblico e legislativo. Questo è avvenuto soprattutto nel Mezzogiorno dove i fondi europei sono diventati quasi sempre sostitutivi rispetto a quelli ordinari e statali che non venivano trasferiti in maniera equa, mentre nel centro e nel nord quei fondi europei sono stati utilizzati come aggiuntivi rendendo quei territori così socialmente più avanzati e più attrattivi per gli investimenti. Insomma dopo il Covid-19 non possiamo sbagliare, non dovremo sprecare neanche un euro delle risorse comunitari a prescindere dal rubinetto che il governo finirà per utilizzare. Il dopo Covid ha naturalmente contribuito a scombussolare l'agenda e le priorità, gli investimenti saranno quindi rivolti anche e soprattutto a costruire economie sociali in grado e capaci di resistere e non essere annientate da appena tre mesi di lockdown, come abbiamo visto, oculatezza, rigore, senso di prospettiva a cui sono chiamati anche gli amministratori locali, compresi quelli di Avellino. Ne parleremo con Germana Di Falco, assessora ai fondi europei della Giunta Festa, una autorità in campo nazionale della materia di Falco e tra l'altro tra gli esperti di cui si avvale la Commissione e il Consiglio d'Europa, per altri invece sarebbe un assessore fantasma che si fa vedere poco ad Avellino e ancor meno combinerebbe, vedremo se è così. Richieste di dimissioni che arrivano anche a Michelangelo Ciarcia, amministratore unico di alto calore, designato da una componente del Partito Democratico come candidato alle elezioni regionali. Sarà questo lo spunto politico dal quale partiremo per capire quale futuro attende un ente sul cui groppone continua a pesare un deficit di 140 milioni, il punto lo faremo con due ex presidenti di alto calore, di segno diverso, Francesco Dercole e Lello De Stefano, tutto questo a studio sera, la cronaca in primo piano, su Prima TV alle 21.15, ma anche in streaming e in diretta Facebook, vi aspetto.